Conegliano-Valdobiadene, Prosecco Superiore di OCG, racchiude innanzitutto un territorio, siamo sulle colline di Conegliano-Valdobiadene, 50 km da Venezia, 100 km dalle Dolomiti, un posto collinare che rappresenta un paesaggio unico nel suo genere, quest'anno 2019 è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità, qui da centinaia di anni il viticoltore ha trovato la produzione e la coltivazione della vite, glera, come il luogo ideale vocato per la produzione appunto del Prosecco Superiore, qui lavorano 3.000 viticoltori che coltivano in maniera manuale principalmente circa 8.000 ettari di vigna, significa un lavoro particolarmente duro dove la sapienza del viticoltore è associata alle tecniche innovative per dare il meglio come prodotto ottenuto, il Conegliano-Valdobiadene, Prosecco Superiore che è la massima espressione qualitativa di questo vino. In questo luogo ovviamente i viticoltori sanno interpretare le uve e il vino che se ne produce attraverso le forme, quelle un po' più tradizionali legate ad esempio a una piccola produzione di nicchia che è il rifermentato in bottiglia sui lieviti ma nello stesso tempo anche l'espressione più conosciuta, lo spumante, Prosecco, Conegliano-Valdobiadene, Prosecco Superiore di OCG, nelle versioni classiche ovvero Extra Dry con una giusta morbidezza nel contenuto di residuo zuccherino ma anche adesso c'è una tendenza nel presentare le versioni più secche, brut o extra brut che sono versioni più moderne che aiutano il consumatore a abbinare questo prodotto con il cibo in cucina. Io credo che le colline del Conegliano-Valdobiadene, patria del Prosecco Superiore, siano il luogo ideale per presentare un prodotto simbolo, qual è il Prosecco Superiore di OCG, quale espressione culturale di un territorio, frutto di una bellezza paesagistica abbinata a un luogo particolarmente bello, sostenibile dal punto di vista ambientale. Le colline di Conegliano-Valdobiadene è l'area più estesa a livello europeo dove i viticoltori e le amministrazioni comunali hanno deciso di eliminare ad esempio l'uso del glifosate oppure eliminare molti altri prodotti che possono impattare sull'ambiente. È un luogo ideale di sostenibilità ambientale, di sostenibilità sociale e il turismo soprattutto esperenziale, un turismo che vuole fruire di questa bellezza del territorio, voglio conoscere, vuole immergersi in mezzo ai vigneti, è sicuramente un'attrattiva importante per quest'area che poi si abbina perfettamente anche con una qualità gastronomica di molti ristoranti, agriturismi che ci sono in quest'area proprio per far sì che sia un luogo che permette ai visitatori di fare un'esperienza unica nel suo genere tra le vigne di un territorio che è patrimonio dell'umanità. Grazie